Buongiorno a tutti gli amici di caseinofferta.it, gruppo casatotale.it, qui a Montara, in Viale Parini, questo bellissimo attico, oggi 7 luglio 2021, per presentarvi come è finito appunto questo attico assicurato con ediliziatotale.it, che da tre locali è diventato un meraviglioso bilocale, con una zona giuono ampissima, questa è la zona dove abbiamo dato il biliardo di questo nostro amico, nuovo proprietario di questo appartamento, mi ha già invitato tra l'altro a giocare poi il biliardo e ovviamente ho già accettato, perché qui si sta effettivamente bene, molto molto panoramico, come dicevo molto ampio, tre esposizioni, tre esposizioni est, sud o mest, quindi proprio le esposizioni migliori, ideali, da sogno per un appartamento, che ripeto ha questa zona giuono che occupa più di metà nella superficie di questo appartamento, luminosissima, come si può vedere anche da questo video, ripeto abbiamo proprio tre esposizioni ideali, quindi est, sud, ovest, che avrebbero questo appartamento luminosissimo. Da qui si può venire a vedere, proprio anche la zona giuono, perché c'era la zona pranzo, cucina al pranzo, si può venire a vedere proprio come è panoramico, per esempio il lato sud della casa, come è panoramica, qui stiamo sulle colline verso Tortona, panorama che spazia moltissimo, si può riprendere proprio a 180 gradi, dalle colline di Tortona fino alle Alpi occidentali, che si possono poi vedere anche dalla camera da letto, che è la zona notte, questa è appunto la zona pranzo, deve essere ancora ovviamente arredato, lampadari e quant'altro, però si può vedere appunto quanto, quanto, quanto proprio è luminoso e bello, questo è tra l'altro l'edificio doppio, molto molto bello, che è stato proprio scelto da Fiete, in il metro, proprio per permettere una buonissima accelerazione della luce, con la sala, tra la sala e la cucina, quindi appunto qui così, questa è la cucina che viene proprio attrezzata, ovviamente cucina sinistrale, dal lato est, e poi possiamo andare a vedere come si accede appunto alla zona notte, porta a scrigno, che per salvare ogni metro quadro di questo appartamento, porta a scrigno a scomparsa, disimpegno, disimpegno dove viene realizzato, dove viene realizzato appunto un'armadiatura ulteriore per la camera da retto, per i bani della stagione che non viene utilizzata, porta a scrigno, anche qui salva spassi, per salvare ogni metro quadro verso il bagno, bagno a qui finestrato ovviamente, a sud, con tutti i sanitari nuovi, e con anche questa bellissima doccia, queste ceramiche azzurro-mare, che in effetti fanno pensare al mare della Liguria, che lì in linea d'aria ha un'ottantina di chilometri, quindi verso il mare, insomma, ceramiche da amare, e procediamo appunto alla camera da letto terrazzata, camera da letto, camera da letto con terrazzo ad ovest, panoramico, anche in questo caso il terrazzo, anche in questo caso il panoramico che dà sulle Alpi occidentali, oggi sono un po' di nuvole, non si vedono bene, chiesa di San Lorenzo, che è poi il Duomo di Mortara fondamentalmente, con Monte Rosa alle spalle, oggi è sovrastato da nuvole e quindi non si vede molto bene per le nuvole che ci sono, però appunto panorama che poi riprende alle Alpi occidentali che va fino alle colline appunto di Tortona a sud. E questo è l'appartamento, appunto tornando nella zona giorno, questo appunto è un altro successo, un altro successo del gruppo CasaTutale.it che siamo contentissimi di poter presentare appunto ai nostri clienti, ai nostri amici che possono contare appunto quando cercano CaseInOfferta.it visibili anche sul nostro sito itin.it sul servizio totale del gruppo CasaTutale.it, CasaTutale.it che è anche EdiliziaTutale.it. Quindi amici, ecco, noi lavoriamo così, adesso in attesa di puntare il biliardo e venire a farmi delle partite con questo mio amico che ha acquistato da noi, con la nostra agenzia e dal nostro gruppo questo meraviglioso appartamento. Un caro saluto e per qualsiasi informazione potete appunto contattarci amici sia dal nostro sito CasaTutale.it e sia magari cercando su CaseInOfferta.it quella che può essere la CasaInOfferta.it, sono vari i nostri domini ovviamente del nostro gruppo immobiliare, quella che può fare più al caso vostro eventualmente acquistabile anche con mutuototale.it, che è un servizio appunto anch'esso del gruppo CasaTutale.it. Quindi cari amici, nel farvi ancora, ripeto, vedere questo appartamento che bello che è e come, adesso non ancora prima di essere arredato e finito ulteriormente, come si è elaborato, un caro saluto per il momento, buona estate a tutti e in attesa del prossimo video state bene!